Il suo consorzio di pubblica lettura ad esempio fu una grande interpretazione e questa volta era Badini, Badini che aveva un'idea alta del servizio culturale, quella era una bella impresa, la pubblica lettura fu un luogo di penetrazione nel territorio, di grande durata e nobiltà, mi ricordo che amavo andare a parlare, ci davo 10 mila lire e questo era un bel fatto perché non c'era una lire, però andare a Anzola delle media quando ancora non c'era la televisione a rompere l'anima e le anime e parlare di Mondrian era un'avventura che non finiva più perché su Mondrian improvvisamente tutti gli operai della Ducati intervenivano come dei matti, perché? Perché Mondrian e The Style, tutta la cultura neoindustriale dei paesi settentrionali li coinvolgeva enormemente, questo non succederà mai più, questo ripeto dopo le serate televisive il rincoglionimento è totale, adesso poi siamo proprio alla incapacità di assumere. Quest'immagine di Mondrian discusso dagli operai della Ducati è meravigliosa, credo che rappresenti un'epoca e purtroppo anche ne rappresenti la distanza. Grazie. 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 Grazie.